Uno, due, tre, e... Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info L'autunno prossimo saremo chiamati ad esprimerci sulla riforma costituzionale redatta dalla Ministra per le Riforme Maria Elena Boschi e dal Presidente del Consiglio, nonché segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi. Ad ottobre dovremo attraverso il referendum promuovere la riforma con un sì o bocciarla con un no, così come previsto dall'articolo 138 della Costituzione che regola la materia della revisione costituzionale. Da più parti si denuncia come le sorti della riforma siano legate alle sorti del Governo e dal Presidente Matteo Renzi. Se questa viene approvata, l'esecutivo Renzi potrà continuare. Se al contrario verrà bocciata, lo stesso Presidente del Consiglio si è dichiarato pronto a dimettersi, provocando la crisi di Governo. Un out-out istituzionalmente improprio e fuorviante, che deformerà il giudizio poporale sulla riforma e lo trasformerà in giudizio sul Premier e sul suo Governo. È di pochi giorni l'esternazione dello stesso Matteo Renzi, il quale denuncia la scarsa attenzione posta sul merito del dispositivo riformatore a fronte della polarizzazione del quesito nella persona del Presidente stesso. Raccogliamo volentieri l'invito di Matteo Renzi e proviamo ad occuparci dei contenuti della riforma costituzionale. Cominciamo dalla fase principale, ossia come il Parlamento determina le leggi. La materia è descritta nel nuovo articolo 70, che sostituisce il vecchio articolo 70, scritto nella Costituzione Repubblicana e ancora oggi in vigore. Secondo questo articolo, la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di quell'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei comuni e delle città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i tempi della partecipazione dell'Italia, la formazione e l'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui è l'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui è l'articolo 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derocate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma. Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei Deputati. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica, che entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei 30 giorni successivi, il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei Deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame, ossia è inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei Deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere procombulgata. L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei Deputati può non conformarsi alla modificazione proposta dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dai suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti. I disegni di legge di cui l'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei Deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro 15 giorni dalla data di trasmissione. I presidenti delle Camere decidono d'intesa tra loro le eventuali questioni di competenza sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Il Senato della Repubblica può, a seconda quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei Deputati. E questo è il dispositivo. Chiaro, no? Bene, facciamo il confronto. Vediamo come oggi, nell'attuale Costituzione, è formulato l'articolo 70. L'articolo 70 oggi recita La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. E' proprio finito così.